Maledetta se vi stesse righe Ed erano i Bombay Basco Club con Magnet, si pronuncia così Canzone che volevo dedicare al nostro socio Cavaglià Che domani, o per meglio dire, fra un'ora precisa Non so quanti anni compi Cavaglià, siamo dello stesso anno È classe 89 lui 91 Compirà 21 anni, quindi maggioranno anche in America Cavaglià Preparati a fare un tour in America a questo punto Possiamo spaventare senza problemi di sorta Però da novembre, Giona quanto compi gli anni? Ottobre Da novembre allora suonirò più piccichella Beh mi comprate voi l'alco Poi, allora il pezzo che ci avete suonato Ciao